Poi c'è una bottiglia di tre petto e non da rispettare tantissima, non è che quella così? Eh, questo è il peggio di 10 persone. Sì, non lo faccio. No, non lo faccio. No, non ci sono. Non c'è un peggio di un giorno. No, non c'è un peggio di un peggio. Non c'è un peggio di un peggio. No, non c'è un peggio di un peggio. No, non c'è un peggio di un peggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.